data storica del realismo internazionale o semplice fatto irripetibile nell'uno e nell'altro caso la vittoria di jesu puras e della sua belva la citroen zx in versione kit car contro le 4x4 turbo di bruno tirì juca cancunen ha sicuramente dell'eccezionale una vittoria ottenuta in maniera perentoria con un dominio assoluto durato tutta la gara che fa comprendere appieno non solo l'ottimo lavoro fatto sulla vettura in pratica la versione che ha corso in questi ultimi anni nel campionato andros su neve ma anche quali potrebbero essere le potenzialità delle vetture in versioni kit preparate a dovere certamente a contribuire al successo la grande bravura del pilota spagnolo ed anche le caratteristiche del percorso ricavato nell'isola gran canaria sempre molto veloce e su fondo nella maggior parte dei casi particolarmente buono il dominio di jesu puras e della sua citroen curata dalla filiale spagnola della casa francese è stato comunque assoluto prima gara del campionato europeo a coefficiente massimo e prima gara del campionato spagnolo e il corte inglese ha richiamato al via un nutrito numero di partenti e fra questi i futuri protagonisti puras tirì cancunen e ponse ma anche gian luigi galli e sergio trevisan entrambi in gara con escort in livrea martini puras ha subito sfruttato al meglio la vettura realizzata in francia dal preparatore snovec capace di sviluppare oltre 260 cavalli per un peso di soli 960 kg una vera bomba che sulle veloci speciali del rally si è potuta esprimere al massimo vincendo ben 11 delle 22 prove in programma alle sue spalle si è classificato bruno tirì con la ford della razza che è stato l'unico a tenere per parte della gara il passo del vincitore aggiudicandosi sei tratti cronometrati solamente terzo Juha Cancunen che pur non troppo a suo agio sul velocissimo asfalto della corsa è riuscito a tenere dietro l'altra toyota affidata al pilota locale cos'è Maria Ponce per quanto riguarda gli italiani la sfortuna ha subito privato la corsa della presenza di Gianluigi Galli il motore della sua Ford Escort Cosworth preparata da Pierangelo Rossi si è infatti disintegrato subito costringendo al ritiro il vincitore del trofeo Fiat 596 fuori Galli a mettersi in luce è stato Sergio Trevisan che dopo aver occupato a lungo la nona posizione è finito quattordicesimo per una banale uscita di strada in un punto dove il pubblico era purtroppo scarso per lui la soddisfazione di essersi è giudicato anche una prova speciale grande prova invece per Elisabetta Cavenaghi che ha chiuso al diciassettesimo posto assoluto e prima tra le dame sfortuna anche per Uzzeni decimo con la sua Subaru costretto al ritiro all'inizio della seconda tappa la gara spagnola era anche valida come prima prova del Fiat 500 Sporting Europa Cup la vittoria è andata a Walter Balestrero il 29enne pilota di Novi Ligure si è giudicato ben 21 delle 22 prove speciali lasciandone una sola al Belga Coles prossimo appuntamento sia con l'europeo a massimo coefficiente che con la Fiat 500 Sporting Europa Cup il rally di Piancavallo che si svolgerà l'1, 2 e 3 maggio sulle strade del Friuli se in Citroen Spagna si troverà il budget tra i protagonisti ci sarà anche Puras che avrà modo di confrontarsi anche con i protagonisti del campionato tricolore Spagna Stоме Spagna 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 Grazie a tutti